Ha detto io accetto, torno alla Juventus e lo abbiamo detto non adesso che il volo è partito, lo abbiamo detto quando è arrivato Max Allegri. Allegri torna ma vuole delle garanzie. Prima, Parati ci deve sparire da Torino. Tottenham. No, stai parlando con me. Aspetta, tra poco arriva Tancredi. Seconda, puntare su Ronaldo, puntare su Di Bala, rinnovare il contratto di Bala e togliere Ronaldo dal centro della Juventus. Perché infatti uscirono anche delle dichiarazioni, le spiate, di Allegri che disse ai tempi, un anno fa e due anni fa, ad Agnelli, se vuoi vincere la Champions devi mandare via Ronaldo. Quindi coloro che hanno fatto fuori Max Allegri tre anni fa sono Paratici, Nedved e Ronaldo. Di questi chi resta? Pavel Nedved. Agnelli ha detto a Max Allegri, Ronaldo troviamo una soluzione, Paratici va via, Nedved lo terrei. Max Allegri ha detto va bene, però per fare uno sgarro a Pavel Nedved, tra parentesi minoraiola, gli ha detto no a Donnarumma. Ma teniamoci Cesni, questo è stato secondo me il grandissimo errore. Perché per fare un dispetto tu non devi fare dispetto alla squadra perché Donnarumma è cento volte avanti. C'era un'opportunità, dovevi prenderlo a zero rispetto a Cesni. Lì ha sbagliato Allegri. Per il resto però lui ha preteso di mettere Di Bala al centro del progetto, Ronaldo ovviamente non può esserci in una squadra che prevede al centro del progetto l'argentino. Quindi sta andando tutto come avevamo previsto, ma soprattutto sta andando tutto come voleva andasse Max Allegri. Ed è giusto perché nel momento in cui tu torni da Max Allegri, appoggi la politica dell'allenatore, penso che sia chiaro che tu questa polizia la devi mettere in conto.